Ma si può parlare? Pronto? Ciao a tutti! Siamo in macchina! Io sono tipo cuccia, lo strappo la schiena C'è un tramonto Non so se si riesce a vedere Ti costite un po'? Cavolo, c'è il guardrail C'è un tramonto bellissimo Adesso Si vede la strada Che stiamo andando? Qua dietro abbiamo tutti i bagagli Perché la macchina È cabrio E non ha un bagagliaio capiente Abbiamo 300 kg a bordo Partiamo già In sovraccarico come al solito Un saluto a tutto il forum Live boat Ci collegheremo poi domani Dall'aeroporto In attesa di partire Un bacio a tutti e ciao!